A di là degli altri, perché poi abbiamo sentito il nervi più scarto, la Florenza non mi insegna perché poi abbiamo fatto un allenamento e quindi è stata la nostra pari, ma che loro possano dimostrare qualcosa di più quest'anno, anche sicuramente, perché in alcuni ruoli siamo nettamente più forti, siamo un po' corti dietro, forse servirebbe un altro difensore, però spero che Marco, il serbo, ci dia una mano in più Però poi alla fine, io credo che le parole costano poco, bisogna fare i fatti, fino adesso io sono allenati abbastanza bene, io sono stato purtroppo fermo 15 giorni per un problema fisico, adesso piano piano cercherò di riprendere e credo che la prima partita importante, al di là di vento, di sapere lo prossimo, sarà quella che giocheremo a casa con il Cagliari, che è uno di quelli con cui faremo la corsa per arrivare, come dice Massimo, 20 Io ho qualche dubbio